dobbiamo dobbiamo pensare di fare le cose fatte bene dobbiamo pensare a vincere la partita ovvio tutti noi vogliamo vincere la partita tutti noi è il nostro obiettivo però è importante fare le cose fatte bene in campo poi il risultato il risultato è una conseguenza la scozia la scozia è una grande squadra ha fatto fatto bene al mondiale queste prime due due settimane del dei sei nazioni comunque comunque ha fatto vedere delle grandi cose bisogna pensare si è giocato contro l'inghilterra era molto molto vicina contro contro il galles ha fatto una partita molto intensa molto fisica sono sono preparate una squadra molto molto fisica sui punti di incontro sono veramente molto performanti mischi a chiusa sono 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 tosti sono tosti rimessa laterale hanno i due fratelli gray e altri giocatori che che sono di livello mondiale 6 è una squadra difficile ovvio dobbiamo puntare a vincere è il nostro obiettivo però penso che dobbiamo dobbiamo costruire bene la partita perché anche in passato tante volte si è detto sì questa è la partita da vincere e poi tra una cosa e l'altra ci siamo persi magari nel pensare di vincere piuttosto che nel cercare di fare possibile per andare a vincere quindi è fondamentale pensare alle alle basi avere palloni di qualità tenere il possesso nel campo loro non fare sbagli nelle nostre 22 cercare di riuscire al nostro campo in una maniera più precisa perfetta e poi insomma saremo in casa di nuovo di fronte di fronte al nostro pubblico e insomma credo che anche per chi era giocato contro l'inghilterra due settimane fa voglia sicuramente dare un impressione fuori che voglia fare insomma una una figura diversa non perché l'ultima volta è stata una brutta figura ma nel senso si vuole si vuole veramente raggiungere qualcosa di importante